Il covid torna a bussare con forza alle porte dell'Aquilano e secondo il primario di terapia intensiva dell'ospedale dell'Aquila, Franco Marinangeli, si è di fatto in quarta ondata. A Montereale c'è un focolaio tra turisti con dieci casi accertati dalla ASL, concentrati in una frazione. Il sindaco Massimiliano Giorgi per questo ha disposto la chiusura di un bar frequentato da turisti, dove si sono contagiate anche la proprietaria e la figlia, da quel che si sa. Per questo il sindaco, in accordo con la ASL, ha disposto uno screening nella giornata di oggi. Anche a Pizzoli da un po' di tempo si registra una ripresa dei contagi. Nelle ultime ore emersi quattro casi che fanno salire a 15 le persone positive. Intanto il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, chiede di razionalizzare i ricoveri dei pazienti di tutto l'Abruzzo in terapia intensiva per via del covid e concentrarli nel covid hospital di Pescara per ottimizzare le prestazioni sanitarie dei presidi del territorio. Ho parlato con il presidente della regione, ho parlato con il manager dell'ASL dell'Aquila e hanno condiviso una strategia che è elementare, non servirebbe neanche spiegarla. Nel momento in cui si ragiona su pochi numeri, c'è una struttura che è nata per essere riferimento regionale sulla gestione covid, va utilizzata quella struttura. Tenere aperto il G8 per uno o due pazienti significa sottrarre energie e risorse umane preziosissime al resto dell'attività ospedaliera. Ci sono liste d'attesa che si sono allungate in un anno e mezzo di covid, è stata sospesa per troppo tempo l'attività chirurgica, ci sono malati con tumori gravi o gravissimi che hanno necessità di interventi urgenti e quindi spostare sanitari di area critica su una gestione parcellizzata non fa il bene né della sanità regionale né della sanità locale. Rischiamo di dover mandare fuori i pazienti, quelli cosiddetti ordinari, da altre parti incrementando la mobilità passiva delle nostre asle e questo in una logica regionale è evidentemente sbagliato. E a proposito di terapia intensiva, il primario Franco Marinangeli punta il dito contro chi non ha capito la portata di questo disastro e ha favorito comportamenti irresponsabili, in particolar modo verso chi non si è vaccinato. Il medico, in prima linea sin dall'inizio della pandemia, ha fatto sapere che su 11 malati in terapia intensiva 10 sono non vaccinati, una è vaccinata ma è molto fragile, i numeri sono numeri insomma e se si tornerà in zona gialla a pagare saranno tutti, non solo i malati di covid perché dice ci sarà un effetto domino inaccettabile.